Sì, è lì come rimane piccolo da dietro. Come andate? Mi scusate. Ah, com'è? Guardagli la testa che grande. E rispetto alle cosce. No dai, ti abbiamo creato in due cosce. E' una zampa più corta. Che fa? E' una zampa più corta. E' una la. E' l'altro piede. E' questo qui. E' questa la correnta. E' 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 la correnta. Una parte poi la mettiamo su Youtube. Pierpaolo lo mettiamo su Youtube. Ah, è gran gesto. Non mi è nato. Ti sto riprendendo. Lo mettiamo su Youtube. La cinghiale di Pierpaolo. Appalla, vero Pierpaolo? Eh, eia! Bravissimo. Appagia. Ahahahahha